ciao amiche mie ciao amici miei ho visto che vi è piaciuto moltissimo l'ultimo video dove vi ho spiegato che sono andata a lavorare mi hanno pagata solo 20 euro e volevo dirvi una cosa di iscrivervi al canale e volevo anche dirvi una bella cosa che praticamente questa notizia è piaciuta molto anche al direttore di fuori dal coro mario giordano che mi ha invitato nella sua trasmissione quindi io dovrò essere giorno 4 quindi mercoledì che anche il 4 ottobre anche il mio non massico auguri anche a tutti i franceschi e le francesche dovrò essere a milano negli studi mediaset a registrare proprio per raccontare questa mia esperienza sono stata invitata e insomma quindi sto andando ho un po di ansia un po un po così però mi vedrete in televisione la settimana successiva quindi si registra come vi ho detto mercoledì il 4 e poi andrà in onda la trasmissione all'altro mercoledì però se vi iscrivete al canale e attivate la campanellina io vi farò se posso anche delle riprese dagli studi mediaset appena ci vado e vi terrò informati su quando precisamente avverrà poi la puntata dove insomma ci sarò io e andrò sul pulpito quindi quindi vi dico anche dove sarò e racconterò questa mia esperienza vergognosa che è stata perché è piaciuta molto io ho fatto presente alla redazione quello che mi era successo mi hanno chiesto di andare lì in televisione a raccontare tutto questo deve perché questo perché comunque bisogna finirla di dire che la gente non ha voglia di lavorare e questa è una testimonianza che vado a portare lì anche perché al direttore è piaciuta molto questa idea e quindi mi ha invitata volevo solo dire questo iscrivetevi al canale mettete mi piace se il video vi è piaciuto e continuate a seguirmi e guardate Mario Giordano un bacio da Franci